Il contrasto al gioco d'azzardo patologico in Piemonte è legge. L'approvazione è arrivata dopo numerose sedute di aula e decine di ore di discussione con il voto favorevole di Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia ha garantito la presenza. Diverse le novità introdotte. La legge è notevolmente migliorata perché vengono aggiunti dei criteri restrittivi più forti per combattere la ludopatia. È chiaro che dobbiamo andare a limitare gli abusi, fare in modo che la ludopatia venga davvero combattuta. Con un milione di euro verranno create dei sistemi che permetteranno di poterla combattere. Verrà vietato qualsiasi tipo di forma di gioco ai minorenni, servirà il codice fiscale per poter giocare, cambieranno le distanze, cambierà la norma sulla retroattività perché nel rispetto del gioco legale bisogna anche tutelare le attività commerciali che negli anni hanno fatto investimenti. La nuova legge va a modificare quella precedente del 2016 con un occhio di riguardo alla prevenzione del gioco patologico e prestando anche particolare attenzione al comparto produttivo meritevole di tutela. È una legge equilibrata che tiene conto delle sensibilità mediche patologiche. Noi non vogliamo assolutamente inventare i patologici, anzi andiamo a prendere quelle risorse dello Stato che non sono state spese per troppi anni e utilizziamo per fare campagne di sensibilizzazione e far sì che quell'1,5% di giocatori che è patologico, che purtroppo si mangia lo stipendio, non debba più giocare e debba essere curato. Ciò non toglie che invece si va a rafforzare, a salvare un comparto di gioco lecito, di cittadini onesti che pagano le tasse, di imprenditori onesti che hanno investito cifre, proventi delle loro attività, che garantiscono posti di lavoro e che fanno sì che riempiendo questo spazio, questo spazio non venga occupato dalla criminalità. Nelle dichiarazioni finali, tutte le opposizioni hanno ribadito la contrarietà al provvedimento. Riempire di nuovo le nostre città di slot machine in bar e tabacchi ci sembra un assurdo. Com'è assurdo il fatto che si toglie ogni tipo di potere ai sindaci, che sono quelli che regolarmente poi governano le nostre cittadine, cioè togliere loro la possibilità di ridurre gli orari o di aumentare i distanziamenti rispetto ai luoghi sensibili, ci parli di due elementi assurdi di questa legge ed è per questo che noi siamo oggettivamente contro. La Giunta ha voluto forzare il regolamento, quindi facendo saltare la parte maggiore dei nostri emendamenti, un altro motivo per cui saranno responsabili di ogni piemontese che purtroppo si ammalerà di nuovo di ludopatia e mi auguro che questo faccia in qualche modo conto con le loro coscienze.